Cantiare dei sottoservizi è ripartito nel tratto di corso bloccato dai lavori della sovrintendenza per verificare i reperti archeologici ritrovati durante gli scavi. Si lavorerà anche nel fine settimana, probabilmente per recuperare il tempo perduto. Questo almeno è quello che il Comune vorrebbe fare, sollecitato dai commercianti. Il blocco di due mesi è provocato come è noto danni inimmaginabili ai commercianti aquilani letteralmente in croce. Ora si spera che tutto torni alla normalità, altrimenti c'è che si dice pronto anche ad intraprendere vie legali. E qui si inquadra la richiesta fatta dai commercianti al Comune di fare un'ordinanza per far lavorare la ditta anche sabato e la domenica. Come è noto, gli assessori Mannetti e Piccinini hanno incontrato nei giorni scorsi i commercianti assieme alla Gran Sasso Acqua, stazione appaltante, dando massima disponibilità al dialogo. Ma intanto i loro affari vanno malissimi e per i commercianti sicuramente non si riusciranno a rispettare i tempi previsti. L'opera però va avanti, nessun tentennamento. Il 23 marzo è stato indicato come data di fine lavori. Si attende questa data per valutare il tutto.